e what day a tutti ci urma e benvenuti raggio carino in questo nuovissimo q&a come sempre ragazzi grazie veramente di cuore a tutti comunque per le domande che mi avete lasciato appunto sotto lo scorso video per cui come al solito vi rinnovo l'invito ragazzi a lasciarmi nuove domande qua sotto nei commenti in caso doveste avere altre curiosità e doveste voler guardare un altro q&a visto che le domande questa volta ragazzi non sono tantissime e visto che comunque insomma tre di voi me ne hanno poste diverse questa volta ovviamente leggerò tutte le domande che appunto questi tre di voi hanno posto ninja allora joke domande mode on quanto è importante per te la musica ha impattato nella tua vita stessa domanda per il disegno ebbene per quanto riguarda la musica ti risponderei di sì un elemento importante che è stato anche molto importante che è tuttora che probabilmente sempre sarà molto importante per la mia vita perché la musica come penso comunque sia successo a diversi di noi mi ha accompagnato in diversi momenti della mia vita momenti in cui magari o ero un po giù o momenti in cui ero allegra comunque momenti non per forza caratterizzati dallo stesso stato emotivo ma comunque c'è sempre stata la musica e per me è sempre stata importante sì perché anche la musica influenza moltissimo comunque il mio stato emotivo quindi non è detto ragazzi magari che ascoltare una musica triste quando si è giù sia un male perché magari proprio quella musica triste può aiutarti comunque non so forse a leggerti dentro comunque ad analizzarti a tal punto da riuscire a superare magari quella tristezza e quello stato emotivo come magari ascoltare una musica allegra quando si è tristi può aiutarti a risollevarti il morale come magari ascoltare una musica allegra quando sei allegro ti aiuta ancora di più a sorreggere diciamo così quello stato emotivo di di allegria di felicità quindi è secondo me ragazzi un elemento assolutamente importante per me per la vita comunque di ognuno di noi dovrebbe esserlo per lo meno per la vita di ognuno di noi perché io dico sempre e senza musica ragazzi probabilmente il tutto sarebbe più morto dico sempre così che la musica è l'anima che anima scusate il gioco di parole il mondo stesso no e se non ci fosse la musica sì ragazzi sarebbe tutto più triste secondo me per quanto riguarda il disegno ti dirò che c'è stato un periodo della mia adolescenza in cui ho disegnato veramente molto mi piaceva disegnare comunque mi piace tuttora ma adesso essendo un po più grande non lo vedo più come uno dei miei passatempi primari diciamo così ogni tanto sì magari proprio ci sono quelle quelle volte in cui mi dico mi metto a disegnare una cosa però allora io sono sempre stata brava a copiare i soggetti quindi comunque a ricreare cose che già vedevo e non sono mai stata tanto brava invece nella capacità di disegnare cose dal niente questa è una cosa che comunque mi è sempre dispiaciuta molto perché comunque a copiare diciamo così che me la sono sempre cavata abbastanza bene quindi comunque un po la mano per disegnare ce l'avevo ce l'ho di regola però quello pure ragazzi è un aspetto che bisogna migliorare e col tempo con la pratica disegnando tanto poi vabbè ci stanno quelli rega che proprio ce l'hanno per natura che sono veramente pazzeschi a disegnare senza fare pratica né niente e quindi non è stato il mio caso anche se ti dirò mi è sempre piaciuto disegnare accompagnato un certo periodo della mia vita la trovavo comunque un'attività rilassante sempre da ninja seconda domanda e mi è perso un oggetto a te caro che ti è stato regalato poco dopo averlo ricevuto se sì come hai preso la cosa bella domanda pure questa vi racconterò un aneddoto quella volta che pensai di aver perduto i miei occhiali da sole sono occhiali reiban ok ragazzi quindi non non costano proprio due soldi pensavo quindi di averli perduti pensavo addirittura me li avessero rubati ma vi dirò che l'ho presa malissimo ma magari qualcuno potrebbe pensare certo magari i occhiali demarcano quindi sai che li hai pagati un po vi dirò che non mi è dispiaciuto per quel motivo quindi non è che ci sono rimasta male al pensiero che gli occhiali fossero di marca e quindi essendo costosi oddio no li ho persi mo no magari non me li posso comprare eccetera no ragazzi ci sono rimasta malissimo perché quegli occhiali mi erano stati regalati ad un compleanno dalla mia famiglia e quindi io sono una persona che dà veramente molta importanza al valore emotivo legato agli oggetti ed è un errore perché magari a volte appunto poi te puoi ritrovare in situazioni in cui magari una cosa te la devi togliere o non la puoi più tenere oppure per un motivo o per un altro insomma non ce l'hai più e quindi ci rimane il doppio male no perché comunque ci stai male proprio a livello emotivo perché sai che magari quell'oggetto era legato ad un ricordo comunque ad una persona o ad un'occasione quindi ci sono rimasta malissimo per quel motivo perché sapevo che era stato un regalo da parte la mia famiglia quindi comunque mia madre mia sorella eccetera e quindi ci tenevo tantissimo per quel motivo poi per fortuna rega gli occhiali si sono ritrovati praticamente non erano né scomparsi né li avevo perduti per fortuna perché li aveva presi mia sorella accidentalmente se li era messi in borsa per fortuna che alla fine si è scoperto l'arcano dopo io penso tipo dopo una settimana che gli occhiali erano spariti mia sorella riguardando bene in borsa insomma se li è ritrovati e quindi voilà insomma poi sono stata felicissima proprio per questo motivo però il punto è quello mi affeziono agli oggetti non per il loro valore economico ma proprio per il valore emotivo legato a quegli oggetti domanda da Alessio altre domandone ce le ho hai mai pensato di scrivere un film e di poterlo girare e parteciparci come attrice bella domanda bella domanda allora voi ragazzi che mi conoscete un pochettino di più sapete quanto comunque a me il cinema piace e mi ha sempre affascinato moltissimo l'idea di dirigere un film quindi mi sono sempre immaginata nel mondo nel cinema come una regista diciamo così perché quella è una figura che mi ha sempre molto affascinato no con quel regista ragazzi che dirige e controlla e decide no come se girare una roba come girare un'altra dirige gli attori stessi a che fare un po' con tutti i regali ovviamente della troupe cioè secondo me il ruolo più figo è quello del regista quindi sì mi piacerebbe tantissimo magari scrivere un film e poterlo dirigere e a me è sempre piaciuta anche molto l'idea di poter fare l'attrice perché comunque è bello ragazzi nel senso poter entrare nei panni di nuovi personaggi magari dalle più svariate caratteristiche o dai caratteri più diversi io l'ho sempre insomma visto come un lavoro veramente molto molto bello e molto difficile però ovviamente però sì mi piacerebbe sia scrivere che dirigere che partecipare come attrice in un film se dovessi scriverne uno sinceramente non lo so su che genere mi potrei buttare forse probabilmente magari sarebbe più il genere horror o drammatico diciamo così perché ragazzi nel genere commedia diciamo cose che fanno ridere e tutto il resto appresso sinceramente non so se invece vedo molto sempre un pochettino più immedesimata forse sarà per il carattere non lo so insomma situazioni un pochettino più cupo un pochettino più tristi sì probabilmente per la mia indola insomma l'indola che ho avuto sempre fino ad ora quindi mi sono vista sempre un pochettino di più in ruoli simili sempre da Alessio come ti vedresti tra dieci anni continuerei a fare video live penserei ancora di vivere nello stesso posto questa era la terza domanda però insomma approfitto e rispondo insieme come mi vedrei fra dieci anni se continuerò a fare live e video io direi di sì ragazzi nel senso lo sapete ho sempre sperato di poter rendere questa attività sul web volete su youtube o volete sul sito viola un vero e proprio lavoro quindi chiaramente comunque di base lo faccio perché mi piace quindi quello che ho sempre detto che comunque queste sue attività che di base devi fare perché ti piace perché poi ti piace magari sei poi capace di trasformarlo in un lavoro quindi quello che io faccio ragazzi lo faccio perché mi piace ovviamente se dovesse avere la possibilità di trasformarsi in un lavoro benvenga ne potrei essere contentissima quindi ovviamente fra dieci anni raga mamma mia ci avrò già 40 anni quindi non so quanto possa essere magari normale vedere una donna di 40 anni sul sito viola che streama videogiochi però penso che insomma non ci siano lì non ci sia limite all'immaginazione quindi io posso sperare chiaramente che sarà così la domanda quindi penserai di vivere ancora nello stesso posto allora non so se ti riferisci da qui a dieci anni o comunque da qui nel senso nel futuro un pochettino così più ipotizzando la cosa sinceramente non lo so perché ragazzi il detto dice che sai dove nasci ma non sai dove muori quindi poi non si sa insomma sapete le dinamiche della vita dove ti possono portare poi uno va dove lo porta il vento principalmente ma attualmente comunque noi stiamo qui ci troviamo bene qui effettivamente non abbiamo mai provato alcun tipo di disagio o problema comunque a stare dove siamo quindi per adesso penso e per il futuro comunque a breve lungo termine penso che ci stabiliremo qui definitivamente nel senso anche quando magari avremo la possibilità proprio di acquistare una casa penso che comunque la scelta rimarrà qui perché sì raga nonostante tutto ci troviamo bene ci piace il posto siamo comunque vicini alla mia famiglia quindi ci troviamo bene qui poi vi ripeto un domani raga se può mai sapere insomma quello che può succedere le ultime domande da parte di stefanone che mi chiede come la presero i parenti quando scoprirono che faceva video su youtube allora per quanto riguarda i parenti un po più alla lontana quindi parlo magari non proprio della famiglia stretta tipo madre padre sorella quello che è ti dirò sinceramente che non lo so nel senso che non è che è stato mai un argomento di cui ho parlato ai miei parenti un po più alla lontana perché non ho mai avuto rapporti tali di confidenza per poter parlare liberamente di questa cosa sinceramente per quanto riguarda la mia famiglia quindi comunque più stretta quindi mia madre mia sorella vi dirò che la presero bene cioè nel senso non non fu un problema per loro voglio dire nel senso che c'è quello che vedevano ragazzi era che stavo bene praticamente che comunque facevo una cosa che mi piaceva comunque ancora prima ragazzi di iniziare a fare youtube io già facevo dei video dei piccoli video tutti i miei no quando all'epoca iniziai ad usare movie maker quindi comunque erano abituate già l'idea che io creassi video diciamo così e quindi poi quando ho cominciato a fare youtube sono state contente perché mi hanno visto comunque fare una cosa che mi piaceva e che mi riusciva no i primi tempi in maniera un pochettino più abbozzata diciamola tutta però mi vedevano contenta insomma e stare bene sempre da stefanone ha un suo videogioco preferito per ogni generazione ad esempio un gioco per playstation 1 per playstation 2 playstation 3 playstation 4 allora per ogni generazione allora playstation 1 non ho avuto la possibilità di giocarne proprio tantissimi su playstation 1 quindi insomma per la old gen proprio nel senso quella proprio preistorica magari ti nomino un crash bandicoot sì diciamo i vari crash bandicoot che veramente mi rimasero nel cuore playstation 2 ne ho giocati un pochettino di più di giochi ma proprio quello che mi viene in mente quando mi dice playstation 2 mi viene in mente jack and dexter ragazzi cioè il primo non tanto però col secondo e il terzo ragazzi ci ho passato veramente le più grandi ore secondo me di divertimento di spasso di meraviglia quindi assolutamente jack and dexter playstation 3 ho avuto la possibilità di giocarne ancora di più e quindi qua comincia ad essere un pochettino più difficile playstation 3 te potrei nominare heavy rain la saga the walking dead poi raga però ce ne stanno veramente troppi cioè capito per questo io vi dico sempre che faccio fatica a rispondere a queste domande perché è difficile perché ce ne stanno veramente tanti che ho giocato che mi sono piaciuti e che mi sono rimasti nel cuore quindi è difficile scegliere playstation 4 ancora peggio ragazzi perché tra l'altro diversi giochi che ho comprato non ho ancora avuto manco la possibilità di giocarci quindi è il primo che proprio mi viene in mente ti direi detroit become human anche se appunto non è l'unico che mi è piaciuto veramente da impazzire perché ce ne sono anche altri sempre la stefanone cosa preferisce tra fumetti e manga e tra cartoon e anime e perché ti dirò stefano che non ho mai avuto tanta possibilità di leggere tanti fumetti e tanti manga perché non avevo la possibilità economica proprio per comprarmeli però adesso che sono diventata più grande ti dirò che ho avuto la possibilità di leggere sia fumetti che manga anche se effettivamente la mia scelta si è spinta sempre di più sui manga per quanto riguarda cartoon e anime anime non ti so spiegare nello specifico il motivo per cui preferisco lo stile giapponese ma è così c'è nel senso una scelta che proprio mi è venuta naturalmente quindi di spingermi un pochettino di più verso quel versante lì e l'ultima domanda sempre da stefano qual è stato il gioco più brutto che ha mai giocato saluti da stefano saluti stefanone il gioco più brutto che ho mai giocato io regà mi è rimasto molto impresso un terminator salvation su ps3 prima si parlava pure delle generazioni un po' più vecchie è rimasto impresso quel terminator salvation del quale io feci tanti anni fa pure una recensione qui sul canale disprezzandolo tantissimo perché mi aveva fatto veramente cagare e per quanto riguarda gli ultimi tempi direi regà che remodered broken porcelain è stata una delusione veramente accecante cioè è stato un gioco abberrante che ho odiato per le sue meccaniche orribili cioè il gioco è stato fatto veramente l'ho detto anche giustamente nella serie è stato fatto secondo me veramente con le chiappe scusate il termine ma me lo ricordo veramente con molto nervosismo con molte incazzature insomma e quindi ragazzi allora queste qua erano le domande di oggi io vi rinnovo l'invito se doveste avere altre curiosità e voleste vedere un altro Q&A a lasciare nuove domande qua sotto nei commenti come sempre grazie a tutti per il supporto questo video termina qui un bacione e obdoscio a tutti ragazzi da giocherina ciao 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 ciao